Allora, un numero speciale di Parla il Ciolle, siamo qui nel McDonald's, nel corso della festa. Abbiamo anche Simone che adesso ci aiuterà in questa intervista speciale al Ciolle, che qui eravamo appunto a salutare chi? Perché siamo qui stasera? Perché abbiamo fatto un galà McDonald's con i ragazzi del Tau Calcio. Perché erano qui? Perché erano il galà per Natale. E per Capodanno? No, per tutto l'anno. Perché i ragazzi erano qui stasera? Perché hanno vinto. Perché hanno vinto. Se hanno vinto, che cosa hanno ricevuto in premio? In premio hanno ricevuto una coppa e le medaglie. E qui stasera? Hanno mangiato il panino, hanno mangiato le patatine. Anche te? Anche te? Te che hai vinto? Io. Ha dato una mano durante il torneo. Te che c'entri? Abbiamo dato una mano, abbiamo lavorato. Lavorato? Ora te, lavorato. Lavorato un po' troppo. Io con quel ragazzo là, abbiamo andato a fare le coppie, le medaglie. Poi? San Cassiano-Valbadia. No, San Cassiano-Val-Dipesa. E dov'è? Provincia di? Di Siena. Di Siena no. No. È un nuovo provincio. Geografia zero. È un vero a Siena. No. Dove sei stato poi al torneo? In che campi hai visitato? In che campi sei stato? Sono andato a Firenze. In Firenze dove? Perché c'era vicino all'ospedale. A Firenze vicino all'ospedale? È un bel campo. Dov'è? Ce n'è tanti. Quanti ospedali ci sono a Firenze? No, è vicino all'ospedale. Ecco. Quindi non sai dove neanche sei andato? Non mi è andato. È difficile, no? No. Simone, che situazione? È così. Il Ciolle è il Ciolle. Quindi si può perdonare tutto, è vero? È stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza. C'è un altro anno che mi viene a rifare. Sì? Ora quali saranno i prossimi appuntamenti stagionali? Ciolle, cosa c'è a maggio? Cosa organizza Toscana? Mi dice, è mini cup. Mini cup? Eh. Voglio anche fare l'altro. Cosa vorresti fare? E che fa le corna? Che sarebbe corna? Le corna è un arbitro. Un arbitro che c'ha? Che c'ha l'arbitro? C'ha le corna. C'ha le corna. Che c'entra le corna? Ma che discorsi? C'entra, a me. Che discorsi solo? No, discorsi se non è sposato. Se non è sposato. Ma che ha bevuto stasera? Sì, d'acqua fresca. Anche l'arbitro si è arrivato bello cotto. Va bene Simone, si chiude qui perché stasera mi sembra... Mi sa che è un po' tardino, eh? La situazione... Sono quasi le dieci e la bicicletta dove è parcheggiata? Hai chiusato. Dove te l'hanno rubata lì fuori? Quanti te ne hanno rubate? Rubate... In carriera quante? Solo cinque o sei? L'ultima però l'hai ricomprata, via. L'hanno comprata per... L'hai regalata, eh? Ti vuoi ringraziare per questa... Ringraziare... No, uno mi ringrazia, anche voi è stata... Me l'avete buttata via. No, no, portata via no, no, perché mi avete aiutato. Che sono aiutato. Aiutato. Va bene, via. Quindi domenica su che campo sarai? Poi andavi in derby campagnolo. Campagnolo? Sì. Puoi essere domenica a fuoco il mare. All'Ibbi 2002, ore 10. Ecco, facciamo un pronostico. Eh, un'ora. Vai, Sione, fai il tuo pronostico. No, no. Sto zitto. Se no mi fucine tutte e due. Ah, sei furbo allora, eh? Sei democristiano, eh? No, se no... Mi fucilano tutte e due. Se vado a mare mi fucilano. Allora ti fuciliamo noi, via. Va bene, saluta tutti. Fai tarza. Oh... 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 ...